Non so dov'è Ma è questo? Sì Bravo, bravo, bravo E ragazzi, come va? Io sono Fere, Nicky E sono Stef, che si dice che mi ha fatto E pervenuti nel nuovissimo episodio di Fortnite E che facciamo, Stef? Fere, quest'oggi ti porto in un posto che mi ha consigliato Gonx Dove ci sono un sacco di ceste nascoste Ma davvero? Una sorta di passaggio segreto con un sacco di ceste Allora, non è proprio il posto più pacifico del mondo Perché è alle spiagge snob Però quasi nessuno conosce il punto preciso Dove ci sono tutte quelle ceste Quindi mettiamola così Noi scendiamo lì Guerra infinita Se riusciamo a sopravvivere ti porto in questo passaggino segreto Ci dovrebbero essere di solito tre ceste in uno sgabuzzino piccolissimo Quindi è una figata incredibile E diventiamo super ricchi pieni di armi La luce gialla È un faro? Un lampione? No! Fere, ci hanno preso la casa No, davvero? Sì Sì, 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 sì Se riesci vieni via Via, 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 via Cavolo, stavo atterrando praticamente là No, no, no Voglio uccidermi a piccolate Steph, aiuto Sto facendo un lotto a piccolate No Mi è arrivato addosso No Ok, aiuto Ho paurissima Ho paurissima Ma dai, vattene Che cavolo mi vuoi prendere? No, arriva anche l'altro col fucile Steph Sono morta Uno è a terra Però l'altro mi vuole fucilare Fere Schiva Sto schivando Però contro un pompa Non è che ci posso fare molto No Non ci credo Era appena arrivato Però Devo dire una cosa Mi hai buttato giù una piccola Sì, me la sono portata a casa Con i fericotteri Nel disonore di essere stata circondata da due Con uno con un fucile a pompa Comunque Io uno me lo sono portata a casa Su onde piccolate Loro sono tutti e due morti Tu sei ancora vivo Quindi è una mezzo vittoria Capisci? Nella sconfitta è una mezzo vittoria Sì, ma sono triste Ora sono da solo Allora vai a prendere le tre ceste Caro mio Ora che non ci sono più Secondo te non mi godo Quel bellissimo loot Allora, fammi rivedere bene la stanza Perché secondo me c'è proprio un armadio Guarda Adesso ci facciamo tutto Ecco, vedi, questo è l'armadio Aspetta Facciamo così Questo Qui c'è l'armadio Bisogna distruggere questo E c'è il passaggio segreto E c'è il passaggio segreto Bello, bello questo Allora, adesso scendiamo Vediamo se questa volta Ce ne capitano tre Prima di tutto scudo qua C'è st qui C'è st qui Ma no No Non c'è l'altra Aspetta Dai, cavolo Però comunque già due È un botto di munizioni È una cosa fantastica Sì, sì Ma anche perché poi vedi Comunque c'è il loot anche in giro C'è un sacco di roba È quello che dico È bello C'è un sacco di roba Allora, ma devo provare a vincere il game a fare? Sì O muoio? No, dai, giocala Ma la gioco? Sì, dai Anche perché sono pure dentro la zona C'è stata una scelta incredibile Guarda che comunque Uccidere con i fenicotteri Non è così tanto brutto Quindi adesso devi portare avanti Quello che io ho iniziato Capisci? Le uccisioni con i fenicotteri Sì, però resta il fatto che io rimarro uno contro due Puoi aver fatto tutto quello che vuoi Ma rimango uno Pattenza, dai Quando morirai, morirai Quando sarà il tuo momento Va bene, va bene, va bene Un po' di fortuna Vabbè, blu non è male Blu non è male, dai Siamo abbastanza felici qua Allora, lo slurp me lo prendo o no? Succo succoso Succo succoso Fede, lo prendiamo o non lo prendiamo il succo succoso? Non so, come stai messo? Non vedo il tuo inventario Fammi vedere Beh, ragazzo Me lo bevo adesso E mi tengo le due pozioni come shield di riserva Eh, no, certo Quelle secondo me non conviene buttarle via Oh, ok Fede, qua non sono arrivati nel loro né io Eh, vai Sento gente Eh, beh sì, no Porta aperta però, eh Non ti aveva vista L'amico, la finestra Ok Ok Bravo, bravo, bravo Bravo Carichi? Sì, carichissimo Siamo carichi, Fede? Sì, 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 sì Bello, bello, bello È stato emozionante questo fight Mi ha lasciato con Lui sta con la lucina gialla Col fiato sospeso Qual è? Non lo so È un trampolino Ti sei trovato pure Bello Aspetta Ok Perché secondo me ci sono altri rumori Quindi sono un po' preoccupato Però Curati, eh, mi raccomando Curati, Steph Allora, facciamo così Devo essere intelligente Devo essere intelligente Bende fin quando posso Poi mi sparo il succo succoso Sì, sono d'accordo Così non rispreco l'altro shield E non sprechi neanche il medikit E non sprechi neanche il medikit, giusto Esatto, esatto Però ho visto un'arma leggendaria, mi sa, eh Ok Mi sa che c'è un'arma leggendaria Però prova Allora, facciamo così Questi comunque li prendo Che non sono male Perfetto Se provi puoi lanciare Ottimo Allora, questo ce l'abbiamo già Quindi non mi faccio nulla Le granate le prendo Perché Uh, nove granate totali Qualcosa di bello No, dai Ma non possono esistere Delle pistole Leggendari E lì sopra C'è la pistola epica Ah, bello, sì No, vabbè Non facendo proprio Per te vedere che c'è la zona Vabbè Vai, vai, via Sì, l'avevo intravista Prima quando hai fatto il giro Quindi, tre kill io Una tu di finicotteri Beh, stiamo andando bene Stiamo andando bene Questo posto porta bene Devo dire, sono soddisfatto Però, scusami un attimo Uno shield adesso me lo tiro E nel mentre Mi sistemo anche Un attimino le armi Ho moltissime difese E utility E soltanto due armi Però io mi trovo bene Con questo setup Ok Quindi sono abbastanza soddisfatto Devo dirti Non è male Allora, qua secondo me Erano loro che hanno luttato Tutte queste case Quindi Sì, sì, sì Non credo che ci siano altri player Spero di non sbagliarmi E andiamo verso la prossima zona Che è lontanissima Sono dentro la zona Ma questo è un rischio No, vabbè, però vai Questo è un signor rischio E lì ti sta chiamando Stai dicendo Steph, vieni, raccogli Io non vorrei andare a raccoglierlo Però è più forte di me Però lui ti sta chiamando Lo senti, Steph Lo senti Devo farlo Siamo tutti d'accordo Vabbè, smetti di fare quelle voci Ti giuro che ti sparo in real life Smettila Non puoi Allora Facciamo così Vai Ta, 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 ta Veloce, voce, voce, voce Se ce l'ho dietro sopra la montagna Ovviamente sono fregato Facciamo così Costruisci un pochino Vai, vai, vai Ok Perfetto Ah, vabbè Non capisco se c'è la gente sopra di me Non male, non male quel cecchino, dai Aspetta Non so perché mi sembra che ci sia gente Però speriamo di no Perché l'ansia Lo so Cecchino da dieci colpi No Lo so che è il cecchino brutto Però dai, non è male Che poi è brutto Non piace a noi per gusto No È più bello quello da one shot Sai che non spari E sai che se lo prendi Crolla È proprio un'emozione unica Comunque Pur sempre cecchino leggendario Quindi ce lo facciamo piacere Dai, dai Certo Assolutamente Dai fare che riusciamo a fare un'altra bella partita Siamo rimasti in 19 Sono dentro la zona Però sta iniziando soltanto adesso a chiudere Quindi comunque c'è ancora un sacco di tempo Voglio vedere se c'è qualcuno in questa città Anche se Non sembra, vero? Guarda, lì c'è un altro airdrop Lo vedi? Eh, sì che lo vedo Troppo lontano E ne stanno cadendo altri Guarda lì Ah, sì, lì, 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 lì Ok, e forse ce n'è pure un altro Però anche quello è super lontano, eh Quindi fatti Lì e lì Vedi? Vabbè Andare e trovarti circondato Però teoricamente quello lì col paracadute Mi viene da pensare che non è stato preso, Fere Anche secondo me Quindi se non c'è gente lì Teoricamente non c'è gente lì Quello mi sembra fermo da un po' Cioè capisco quello che sta scendendo ora Ma l'altro è fermo lì Che faccio? Dai, vai Vado Ormai, sì Ormai sì Ma vado prima in questo qua qua sopra? Sì, sì, sì Lo vedono tutti questo, è pericolosissimo È davvero pericoloso Lo so Che devi fare Vabbè, andiamo, andiamo Senza paura, Fere Senza paura Sarà il game in cui aprirò 10 airdrop Ok? Va bene, va bene Ci crediamo tutti Una lì, cavolo, è vicinissimo Sono davvero vicini? Non lo so Quale vuoi fare per primo? È complicato scegliere Andiamo Vai Ok Ok Opla Sta a pompa Piano, è piano Qua sembra che non se lo sia proprio calcolato Nessuno, eh Totalmente Totalmente Ok Cosa butto? Non lo so Mi sa che butto lo scudo Dai, sì, 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 sì Oh Bello Eh, che cavolo Non ti puoi rilassare un atomo in questo gioco Colpito Ce ne sono due, cavolo Lo so, però li stanno sparando da un altro lato, credo Ok Ok Perché mi sembra che si è messo a guardare dietro di lui a un certo punto Ok Eh, non so se giocare a suon dare Però aspetta Se devono fare le scale, sì Mmm Non vorrei sprecare tutte queste munizioni in questo momento Anche secondo me è un po' uno spreco Li lascio perdere? Sì Ok Allora scendo dalla montagna Anche perché la zona è vicina Se si perde troppo tempo rischi di non entrarci Che poi ti trovi altra gente davanti E boh Esatto Sto cercando di capire se c'è l'altra gente qua intorno Mi sembra di no Non mi sembra Nella città non mi sembra neanche a me Quindi boh Ok Corro, corro, corro Sono un po' triste di aver lasciato quello scudo Perché fa davvero comodo Ma lanciarazzi Mi può dare la chance di vincere il game Uno scudo in più Diciamo che non è così tanto Quindi secondo me ne valeva la pena riprendere lanciarazzi leggendario Allora mi sto guardando intorno Loro Sembra che siano rimasti in quella zona Penso di bullare qui Ok Se non trovo proprio player in questo momento Mi sa che bullo qui E sono indeciso se fare una bull di legno momentanea O se fare già quella ai mattoni Secondo me è momentanea Anche secondo me Perché non sappiamo È grande la zona e non sai dove chiuderà Quindi può essere uno spreco di materiali Vado? Mh Ok let's go Ta 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 Ok poi Facciamo qua così Ok poi ta 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 E dobbiamo fare un bel pavimento Poi facciamo un'altra bella scala Andiamo ancora un po' più in alto secondo me Sì sì Sono d'accordo Sono d'accordo Ok Opla Ho sentito gente che spara Che dici? Così può andare bene? Secondo me può andare bene Cioè mi sembra che hai una bella visione no? Sì Allora da lì non vedo altro Lì c'era il build E l'air drop non è stato preso Non è stato preso Quindi potrei avere qualcuno da ammirare Che magari prova a prenderlo Che mi piace molto Come cosa sarà divertente Dalla città noi abbiamo guardato diverse volte Non abbiamo mai visto nessuno No 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 Quindi diciamo che di fronte a me È più probabile che ci sia qualcuno Sì sì Oh ok Per esclusione Per forza L'air drop ancora nulla Ma dove sono finiti quei player di prima? Ma non lo so Cioè non puoi non notarlo Cioè lì dietro Quindi boh Lo so Allora aspetta che mi alzo un po' il volume Perché È il momento ansia Cioè se mi arriva qualcuno Lo voglio sapere Se vado sopra la montagna Prima che mi sparano E buldo e mattoncini C'è una buona chance Non voglio cantare vittoria Ma c'è una buona chance Andiamo a fare Andiamo a fare per modo di dire Rip Non ci provare Non ci provare Aspetta Sono con te Con i miei fricotteri Aiuto Ho visto gente? Le due team Sembrerebbe Trampolino Porca miseria Bene quelli col trampolino Mi preoccupano un po' eh Cioè se impuntano la mia base di trampolino Siamo fregato Arrivano in volo Mi arrivano in volo Cioè sarebbe una cosa terribile Assolutamente sì Ok allora guardiamo un po' Dov'erano? Eh lì sotto Lì? Sì Avranno già assaltato? Penso che abbiano assaltato Quelli di fronte Quegli altri là Vedo un tipo lì? Per logica Li vedi? Eh sì Mi sembra che stiano fightando no? Non lo so Allora essendo da solo Secondo me mi conviene giocare safe al momento Sì 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 A voglia A voglia Cioè mi verrebbe una voglia incredibile di spararli Però se voglio avere qualche chance di vincere Devo risparmiare proiettili e vita E aspettare proprio all'ultimo Lì comunque cade un airdrop Lo vedi? Quindi loro potrebbero essere molto tentati Se non sono troppo equipaggiati Loro saranno tentatissimi E li ho visti ricevere dei colpi Mi sa da sotto nel bosco Non so dov'è Ma è questo? Sì Oh non ti avevano visto Non ti hanno neanche sentito cadere La cosa divertente è quella Molto divertente oltretutto Non avevano shield? Eh non mi sembra Lancia granate Qual è questa? Una pistola Ma tenetevi È ovvio Allora stanno bullando Per prendere lì Ok Che bello quando esplode tutto Bulldano sempre Quindi è difficile Sono io dentro la zona però Ah ho notato Però mi sono perso lo shield Ma proprio da me dovevano venire Quei maledetti Direi Da dove hanno sparato? Non lo so Occhio sento passi o no? No sono io Ok Fa un rumore strano Sento un po' il rumore in ritardo Quando c'è lo spectate comunque Però vabbè Ma farei Ma si stanno sparando tra di loro? Lasciali sparare A quattro Quindi ci sono tre player Eh sì che si stanno sparando Sparano lì sotto Stanno sparando lì sotto Comunque Quindi occhio che lì sotto È persone Però siamo rimasti in tre Lo vedi? Sì l'ho visto L'ho visto L'ho visto adesso È sotto la costruzione Sotto il pavimento L'altro dove è andato? Non lo so È sempre lì sotto Ok Porca miseria È scomodo È difficile perché devo pensare all'altro Sì 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 Stanno sparando Siete in due Steph Uno contro uno Uno contro uno Però non ho idea di dove sia C'è solo quello sotto Quello che è andato sotto la collina No Perché può essere stato quello sopra la collina Che l'ho ammazzato Non abbiamo questa informazione Non so E allora controllassi Alisa sotto la collina Però fai attenzione perché sei tu dentro Quindi probabilmente ti arriverà qualcuno addosso adesso Lo so infatti Sto cercando Di risolvere questo problema Pere È qui fuori E tu sei incastrato dentro Ci sono altre scale Ma saprà dove sono? Sì secondo me sì Non lo so Secondo me no Vabbè se tu lo vedi lui ti vede O no? È logico Vedi? Sì Vai Steph Sono bella Io te l'ho detto che la mia uccisione con il fenicotterio Avrebbe portato a fortuna E tu l'hai detto Andiamo a vincere Bello 6 kill Più la tua dei fenicotterio 7 kill 7 kill Vittoria Uno da solo Peccato non esserci Ma è stato comunque emozionante Che ne so Felicissima Bello 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 Oh mamma mia C'è incastrato lì Che non riuscivo più ad uscirne Incastrato Mi si erano buggate le modifiche Non potevo più aprire le porte Non ci credo Oh mamma mia Ragazzi Deci 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 Se la prima volta che vedete il nostro video Potete considerare lì Non iscrivervi Per rivedervi gli altri episodi Ciao Alla prossima Ciao Ciao Ciao